L'azienda. Gli organi grammi. Quali sono gli organi aziendali e come si rappresenta la struttura di un'azienda? Gli organi aziendali sono insiemi di persone ai quali sono affidati specifici compiti e le relative responsabilità che ne derivano. I principali organi aziendali sono gli organi volitivi o vertice strategico, che hanno il compito di prendere le decisioni più importanti per l'azienda, le decisioni strategiche. Gli organi direttivi o linea intermedia, che prendono le decisioni tattiche. Gli organi esecutivi o nucleo operativo, che eseguono le operazioni previste dalle decisioni degli organi direttivi. Agli organi interni aziendali si affiancano organi di staff, che svolgono una funzione di consulenza del vertice strategico o della linea intermedia. Vediamo insieme un esempio. L'Assemblea dei Soci della MOU SPA ha deciso di ampliare la produzione aprendo un nuovo stabilimento vicino a Genova. Decisione strategica. A tal fine, il direttore della produzione ha individuato gli impianti da acquistare per avviare lo stabilimento, mentre il direttore finanziario ha richiesto un prestito a una banca. Decisioni tattiche. Nel nuovo stabilimento, gli operai lavoreranno su turni giornalieri. Attività del nucleo operativo. Gli organi grammi sono rappresentazioni grafiche che descrivono la struttura organizzativa di un'azienda, in quanto individuano i vari organi aziendali che la compongono e le relazioni che intercorrono fra loro. Sono composti da Rettangoli che individuano gli organi aziendali. Linee che individuano l'esistenza di una relazione. Con linee verticali, la relazione è di tipo gerarchico, quindi si è in presenza di organi di line. Con linee orizzontali, la relazione è di supporto, pertanto si è in presenza di organi di staff. Esistono diversi tipi di organi grammi, ma i più diffusi sono a struttura elementare, a struttura funzionale e a struttura divisionale. Nell'organigramma a struttura elementare, il potere è concentrato nel vertice strategico che prende tutte le decisioni strategiche e tattiche. Vi sono solo due livelli, l'organo volitivo e gli organi esecutivi. Questa struttura è diffusa soprattutto nelle piccole e medie imprese, in cui tutte le decisioni sono prese dall'imprenditore o da pochi soci di maggioranza presenti. Le decisioni sono prese in modo rapido. Vediamo insieme un esempio di organigramma con struttura elementare di un ristorante che offre anche la consegna di piatti pronti a domicilio. Gianluca Rossi, il titolare, dà suggerimenti ai cuochi su come preparare i piatti. Organizza il servizio ai tavoli dei camerieri e prende le ordinazioni delle consegne a domicilio. L'organo volitivo è rappresentato da Gianluca Rossi. Gli organi esecutivi comprendono due cuochi che lavorano in cucina, tre camerieri che servono nella sala ristorante e un fattorino per le consegne a domicilio. Nell'organigramma a struttura funzionale, le decisioni sono prese su due livelli gerarchici. Il vertice strategico prende le decisioni strategiche e la linea intermedia prende le decisioni tattiche relative a una specifica funzione aziendale. Questa struttura è tipica delle imprese di medie e grandi dimensioni. Rispetto alla struttura elementare, i tempi per prendere le decisioni si allungano, in quanto è necessario coinvolgere sia gli organi volitivi sia gli organi direttivi. Vediamo insieme un esempio di organigramma di un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di olio di oliva. L'attività è organizzata con i settori produzione, vendite e amministrazione. L'organo volitivo è rappresentato dall'amministratore delegato, che prende le decisioni strategiche per raggiungere gli obiettivi di vendita, sulla base delle quali gli organi direttivi, i direttori di funzione, programmano le attività da far svolgere agli organi esecutivi, che comprendono 20 operai coordinati dal direttore della produzione, 12 rappresentanti e 3 commessi coordinati dal direttore delle vendite e 2 ragionieri che collaborano con il direttore amministrativo. L'avvocato Balti, collaboratore esterno, è parte dell'organo di staff. Nell'organigramma struttura divisionale, le decisioni sono prese su due livelli gerarchici. Il vertice strategico, che prende le decisioni strategiche, la linea intermedia, che prende le decisioni tattiche relative a una specifica divisione aziendale. Il nucleo operativo è organizzato in base alle funzioni svolte. Questa struttura è tipica delle imprese multiprodotto di grandi dimensioni e delle multinazionali che operano in divisioni diverse, individuate in base al prodotto o al servizio realizzato, oppure in base all'area geografica di riferimento, e con un'alta specializzazione dei diversi organi. Vediamo insieme un esempio di organigramma di un'azienda specializzata nella produzione di accessori per il mare. L'azienda possiede tre stabilimenti, uno in Lombardia, uno in Lazio e uno in Puglia. L'organo volitivo è rappresentato dall'amministratore delegato. Gli organi direttivi sono costituiti dai direttori delle tre divisioni, Lombardia, Lazio e Puglia. Gli organi esecutivi comprendono, per ciascuna delle tre divisioni, 40 operai impegnati nella produzione e 5 impiegati amministrativi. Riepilogando, gli organi aziendali sono insiemi di persone ai quali sono affidati specifici compiti e le relative responsabilità che ne derivano. I principali organi aziendali sono gli organi volitivi, direttivi, esecutivi e di staff. Gli organigrammi sono rappresentazioni grafiche che descrivono la struttura organizzativa di un'azienda, in quanto individuano i vari organi aziendali che la compongono e le relazioni che intercorrono fra loro. Gli organigrammi più diffusi sono A struttura elementare, il potere è concentrato nel vertice strategico. A struttura funzionale, le decisioni sono prese su due livelli gerarchici. A struttura divisionale, le decisioni sono prese su due livelli gerarchici. È caratterizzata da un'elevata specializzazione dei diversi organi. Grazie a tutti.